Questo libro credo che si presenti in maniera diversa dagli soliti libri sul canzoniere di Petrarca. Faccio un esempio per capirci. In genere a scuola, all'università, si studia Petrarca perché è un grande stilista, perché Petrarca ha influenzato tutta la poesia italiana ed europea dopo di lui. E quindi Petrarca si porta dietro tutta una serie di osservazioni di carattere linguistico, stilistico, metrico e così via. Cioè una vera e propria palestra di analisi formali. Beh, io ho fatto una scommessa con me stesso. Ho scommesso che avrei scritto un libro su Ica, sulla poesia di Petrarca, senza mai usare le parole in decassillabo e settemario. E ci sono riuscito. In questo libro non figurano mai le parole in decassillabo e settemario e solo pochissime volte figurano termini della retorica. Cioè invece di insistere sul come, io ho voluto fare un libro che parlasse del cosa, di cosa Petrarca dice dell'amore.